La terza sezione penale della Corte di Cassazione ha fissato per il 17 marzo 2017 la trattazione dei ricorsi riguardo la posizione dell'avvocato Rosario Pio Cattafi, condannato in appello per la maxioperazione antimafia Gota 3 a 7 anni di carcere. La sentenza d'appello, lo ricordiamo, confermò il legame mafioso per l'avvocato barcellonese collocandolo al vertice della cupola del Longano solo fino all'anno 2000. La stessa Corte d'appello quindi scarcerò Cattafi dopo la reclusione in regime di carcere duro. I ricorsi in Cassazione furono proposti tanto dalla procura generale di Messina quanto dal legale di Cattafi, l'avvocato Salvatore Silvestro. Nel marzo di quest'anno il Tribunale del Riesame di Messina aveva quindi detto no ad un ritorno in carcere di Cattafi, così come chiesto dal sostituto procuratore generale Salvatore Scaramuzza e dai colleghi della distrettuale antimafia di Messina Vito Di Giorgio e Angelo Cavallo. La sentenza d'appello dell'operazione antimafia quota 3 risale al novembre 2015. Cattafi è stato condannato a sette anni di carcere poiché è ritenuto associato alla mafia barcellonese. A parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal gruppo Monica Marino però che nel dicembre 2013 lo aveva condannato a 12 anni di carcere, la Corte d'appello ha contestualizzato solo fino al 2000 il legame di Cattafi con la cupola. La sentenza d'appello è stata quindi contestata dalla procura generale che non la ritiene congrua rispetto alla prospettazione accusatoria e anche soprattutto riguardo la condanna per mafiosità fino al 2000. Lo stesso Cattafi intanto proprio oggi era chiamato a deporre nell'ambito del processo sulla trattativa Stato-mafia. Il legame barcellonese si è però avvalso della facoltà di non rispondere in quanto imputato in un procedimento connesso. Fu lo stesso Cattafi a dire ai magistrati di Palermo che nel 1993 quando era detenuto per l'inchiesta sull'autoparco di Milano era stato contattato dal vice capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Francesco Di Maggio affinché facesse da tramite con il boss Nitto Santa Paola nel tentativo di fermare le stragi di mafia.